Bene, sono Elia Denefiadova, per fortuna sono stata invitata per suonare qui ad Arezzo, una città meravigliosa, veramente oggi ho visto un po' la città, è meravigliosa e ho suonato al Museo Ivan Bruschi ed è stato fantastico, il pianoforte è molto bello, Steinway, il pubblico molto attento, ho apprezzato moltissimo come hanno ascoltato con tanta attenzione, sono molto grata e felice di essere qua ad Arezzo al Museo Ivan Bruschi.